Cari amici, bentrovati! La parola del Vangelo che proclameremo e che ascolteremo in questa prima domenica di avvento ci ripropone lo stesso insegnamento di Gesù che abbiamo ascoltato 15 giorni or sono nella penultima domenica dell'anno liturgico. Allora abbiamo letto il Vangelo di Marco, oggi leggiamo quasi le medesime espressioni dal Vangelo di Luca. Il cuore dell'annuncio è evidente, vedranno il figlio dell'uomo venire su una lube con grande potenza e gloria. Ecco l'Evangelista Luca vuole dirci che tutta la vita cristiana è andare incontro al Signore che viene e quindi vuole offrirci la vera prospettiva della fede e della spiritualità cristiana. Ecco il senso vero dell'anno liturgico che andiamo a incominciare dove riviviamo l'attesa di Gesù, l'attesa del suo ritorno facendo memoria di Lui. Ecco ripercorrere l'anno liturgico non è per il gusto del ripetitivo o per il rifiuto di quello che è un novum che alimenta oggi molti appetiti senza mai saziarli. Non è neppure la ritualità che deve cambiare, siamo noi che dobbiamo cambiare nel tempo che ci è dato, nel tempo dell'attesa del Signore. Non è la liturgia che deve rinnovarsi secondo il nostro gusto, siamo noi che dobbiamo lasciarci rinnovare dall'incontro con il Signore che sempre si dona a noi nella memoria dei suoi misteri. Illumina il cammino della nostra vita, l'attesa del suo ritorno, il triplice invito che le parole di Gesù manifestano, quale esortazione accogliere il senso della venuta del Signore e del nuovo anno liturgico che andiamo a incominciare. Gesù innanzitutto ci invita, risollevatevi e alzate il capo, cioè accogliete il dono di novità che viene dall'irrompere del Signore nella storia e questo è il novum. Egli viene per dare compimento alla nostra libertà. C'è bisogno di vincere disorientamento e rassegnazione perché il Signore possa dare compimento alla nostra storia. Vedete, la libertà non è una nostra conquista, ma un dono che viene da Lui per il quale possiamo risollevarci, alzare il capo vincendo ogni gioco, ogni oppressione. Ma poi abbiamo il secondo invito di Gesù. State attenti a voi stessi, cioè non fatevi trovare impreparati alla sua venuta, avvolti da quel rilassamento che è tipico di chi vive e calcola in funzione di sé e del proprio tornaconto. C'è bisogno di autenticità e questa è possibile se non viviamo solo in funzione di quello che ci sta intorno e di come dobbiamo apparire o renderci attraenti. Siamo autentici se non bastiamo solo a noi stessi. E poi Gesù ci dice vegliate, cioè alimentate l'attesa. Chi è la preghiera per leggere i segni, affrontare le fatiche e comparire davanti a Gesù l'unico Signore della storia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.